Ora dopo aver visto la Volkswagen App parliamo del gruppo PSA e cominciamo a parlare del marchio DS perché alla gamma di nuova DS3 presentata all'inizio dell'anno e disponibile come berlina o cabrio ora si aggiunge la versione Performance da 208 cavalli riservata a chi cerca la sportività delle prestazioni e il piacere di guida ma senza rinunciare all'eleganza, al design e al comfort. Anche nuova DS3 Performance adotta l'espressiva firma luminosa DSD LED Vision e il frontale DS Wings contraddistinto dalla calandra esagonale verticale in cui è inserito il logo DS. Il profilo grigio opaco che ne enfatizza l'eleganza si allunga verso i proiettori e verso i fendinebbia a LED attraverso due ali cromate. I fari di nuova DS3 Performance utilizzano la tecnologia LED con tre moduli da 3 W ognuno e la tecnologia LOXENO, un modulo da 25 W, oltre agli indicatori di direzione a LED a scorrimento. L'utilizzo contemporaneo delle due tecnologie LED e XENO rende il fascio luminoso potente, ampio e omogeneo per una maggiore visibilità e comfort durante i viaggi notturni. Questo permette anche di ridurre il consumo di energia del 50% con gli annavaglianti e del 67% con gli avaglianti, aumentando notevolmente la durata dei fari. Altri elementi che caratterizzano esternamente il nuovo DS3 Performance sono il doppio scarico, le carreggiate allargate, l'assetto ribassato, i cerchi in lega da 18 pollici diamantati neri, le pinze dei freni anteriori nero lucido, il logo specifico che richiama i colori di DS Performance, la divisione sportiva del marchio. E come avete visto, mentre vi leggevo questa notizia, abbiamo mandato in onda delle immagini di questa nuova vettura di casa DS.